oggi mi vedete in veste di professore per la prima volta e perché perché ho un argomento molto interessante e delicato di cui parlarvi le fonti del diritto che cosa sono le fonti del diritto quante volte avete sentito dire questa legge incostituzionale non va rispettata e quante altre avrete sentito invece parlare di regolamenti ministeriali dpcm i famosi dpcm e norme locale ed anche qui una platea di opportunistici difensori della legalità che richiamandosi alla gerarchia delle fonti del diritto sostengono che tali norme non sono vincolanti per il cittadino ma è davvero così cosa sono le fonti del diritto e come funzionano cosa deve rispettare il cittadino e cosa rischia se non rispetta una norma di rango permettetemi la licenza inferiore in questo video cercherò di chiarirvi innanzitutto cosa sono le fonti del diritto così potrete avere più di una buona infarinatura di diritto costituzionale e soprattutto saprete come trattare determinati argomenti che di questi tempi vanno un po di moda visto che in molti si sono trasformati in costituzionalisti sigla questa è la legge quando parliamo di fonti del diritto ci riferiamo alle comuni norme giuridiche ossia a tutti gli atti che creano diritti e doveri per i cittadini ad esempio la costituzione è una fonte del diritto da essa infatti derivano una serie di obblighi diritti libertà e così via ma anche le leggi del parlamento sono fonti del diritto così come lo sono i decreti legge e i decreti legislativi poi ci sono le norme che derivano da decreti ministeriali o dal presidente del consiglio dei ministri o da leggi regionali da regolamenti comunali e così via insomma tutto ciò che crea una norma giuridica vincolante è una fonte del diritto nel considerare i diversi soggetti autorizzati dalla costituzione ad emanare norme giuridiche avrete sicuramente notato che alcuni sono particolarmente importanti più importanti di altri pensiamo ad esempio al parlamento che rappresenta il popolo altri lo sono un po meno pensiamo agli organi comunali che rappresentano solo la comunità locale composta talvolta da poche migliaia di persone è ragionevole allora che le norme emanate dagli uni e dagli altri abbiano un diverso valore nel nostro ordinamento le norme giuridiche sono ordinate secondo una gerarchia pensate a una sorta di piramide e amici se fossi stato bravo in disegno certamente non sarei diventato un avvocato quindi perdonate la licenza dunque dicevamo pensate a una sorta di piramide le norme hanno un valore diverso in funzione della fonte da cui provengono sul piano pratico il diverso valore comporta che nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore è un po come dire rapportarsi alla gerarchia militare che un ordine del caporale non può mai porsi in contrasto con un ordine del generale vediamo allora come sono strutturate le fonti del diritto al vertice della piramide c'è ovviamente la costituzione e tutte le leggi costituzionali trovandosi al primo posto queste disposizioni prevalgono sempre in caso di contrasto su qualsiasi altra norma di rango inferiore al secondo posto ossia sul gradino successivo della piramide ci sono le leggi del parlamento e quelle del governo sia decreti legge e decreti legislativi sempre su questo stesso gradino ci sono le fonti regionali e provinciali che comprendono le leggi regionali che però sono valide solo sul territorio della regione poi ci sono le leggi delle province autonome di trento e bolzano ugualmente valide solo nei rispettivi territori infine al secondo gradino sempre sotto la costituzione troviamo i regolamenti e le direttive dell'unione europea dobbiamo sottolineare che le fonti comunitarie nelle materie ad esse riservate prevalgono sempre sulle leggi italiane al terzo gradino della piramide troviamo i regolamenti che sono detti atti amministrativi questi possono essere emanati dal governo e dai singoli ministri oppure dal presidente del consiglio dei ministri così avremo i regolamenti ministeriali e i dpcm oppure anche da organi regionali provinciali e comunali oppure da altri organi della pubblica amministrazione i regolamenti non possono essere in contrasto né con la costituzione né con le leggi e regolamenti comunitari ossia tutte le fonti del diritto collocate nei due gradini superiori questo tuttavia non deve indurci a credere che questi contengano norme di poco conto o di interesse limitato per esempio sono regolamenti comunali quelli che stabiliscono se e quando si può circolare in auto nel centro cittadino a targhe alterne o dove si può parcheggiare liberamente o a pagamento o su quali terreni si può costruire una casa quali orari devono rispettare i negozi e così via al quarto posto infine si collocano le consuetudini o anche dette usi si tratta di norme non scritte né poste da alcune autorità che sono nate dalla ripetizione costante generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico cosicché alla fine rispettarle è diventato un obbligo naturalmente le consuetudini perdono efficacia se si pongono in contrasto con norme provenienti da altre fonti superiori non perché tutti parcheggiano in seconda fila o su una piazza pubblica quel comportamento diventa automaticamente lecito le consuetudini acquistano valore giuridico solo se disciplinano questioni non regolate da altre norme del diritto come ad esempio i compensi dovuti ad alcuni mediatori di affari quando non esiste un loro preziario oggi per facilitare la conoscenza degli usi a cui ancora riconosciuto valore giuridico sono predisposte delle apposite raccolte compilate ad aggiornate dalle camere di commercio e da altri enti autorizzati dalla legge ora veniamo al punto più dolente che succede se una norma di rango inferiore viola una norma di rango superiore nella gerarchia delle fonti poniamo che una legge sia in contrasto con la costituzione o un regolamento ministeriale sia in contrasto con una legge o con la costituzione stessa possiamo disapplicarla e fingere che non esista ovviamente no non sta al cittadino stabilire se una norma di rango inferiore nella piramide delle fonti del diritto è in contrasto con quella di rango superiore solo un giudice può farlo questo implica due considerazioni molto importanti la prima per il cittadino tutte le norme sono vincolanti allo stesso modo hanno cioè la stessa forza quindi è obbligatorio rispettare tanto un regolamento quanto una legge entrambi sul cittadino hanno la stessa forza così se una persona vanta un diritto riconosciutogli da un dpcm ha diritto ad esigerlo con la stessa categoricità di un diritto espresso invece da una legge o dalla stessa costituzione e lo stesso vale per i doveri i doveri provenienti da atti amministrativi sono vincolanti come quelli che derivano dalle leggi la seconda conseguenza da tenere in considerazione è che se il cittadino è sospetto che una fonte del diritto sia in contrasto con una norma di rango superiore allora non ha il potere di disapplicarla lui stesso ma deve rivolgersi a un giudice solo il giudice ha infatti il potere di verificare se davvero esiste un incompatibilità spesso infatti l'incompatibilità è solo apparente frutto di una non corretta lettura interpretazione delle norme e chi è questo giudice se stiamo parlando della compatibilità di una legge con la costituzione il giudice a cui rivolgersi è la corte costituzionale oddio il cittadino non può presentarsi davanti alla corte costituzionale deve essere un giudice in un normale processo che chiamato ad applicare la presunta norma illegittima deve valutare se rinviare la questione alla consulta cioè la corte costituzionale o meno facciamo un esempio come sapete esiste una legge che vieta i fumatori di sedersi al tavolino del ristorante nelle stanze frequentate dai non fumatori mettiamo allora che un fumatore ritenga questa norma illegittima perché discrimina chi ha il vizio del fumo rispetto a chi non ce l'ha e quindi sostiene che sia in contrasto con l'articolo 3 della costituzione a norma del quale tutti i cittadini sono uguali o magari in contrasto con l'articolo 16 della costituzione che attribuisce a tutti la libertà di circolare e di muoversi come vogliono ebbene il fumatore non è che ha il potere di imporre al titolare del locale di farlo accedere all'area dei non fumatori ma dovrebbe tutta più fargli causa e poi chiedere al giudice di rinviare gli atti alla corte costituzionale affinché quest'ultima giudichi se tale legge che il gestore del locale ha voluto diligentemente applicare sia costituzionale cioè legittima o meno insomma se non si inizia una causa non saprete mai se una legge è costituzionale o non lo è la sentenza della corte costituzionale cancella per sempre la norma ritenuta illegittima è come se arrivasse il parlamento con la gomma ed eliminasse per sempre la legge incostituzionale con effetti retroattivi salvo ovviamente i rapporti già esauriti abbiamo appena detto che solo la corte costituzionale può su richiesta del giudice ordinario dichiarare incostituzionale una legge se invece si discute sulla legittimità di un atto amministrativo l'unico organo deputato a cancellare il regolamento a dichiararlo cioè illegittimo e quindi ad annullarlo è il tar il giudice ordinario può solo disapplicarlo al caso concreto bene amici tiriamo le fila del nostro discorso le norme hanno una loro graduatoria che solo il legislatore è tenuto a rispettare nell'adottare norme di rango inferiore deve rispettare quelle di rango superiore questa graduatoria però non riguarda il cittadino che deve sempre rispettare tutte le norme e quanto alla disobbedienza civile da molto invocata come causa di giustificazione per disapplicare le norme ritenute illegittime e contrarie alle libertà un discorso di questo tipo poteva valere quando non c'era la costituzione quando cioè il sovrano il dittatore poteva adottare tutte le norme che voleva anche quelle in contrasto con i diritti fondamentali dell'uomo oggi invece che esiste un parametro fisso ossia la costituzione il pericolo non c'è più perché ci sarà sempre un organo un giudice nella specie la corte costituzionale a stabilire se una norma è davvero in contrasto con le libertà dell'uomo ecco perché oggi la disobbedienza non ha più alcuna ragione di esistere perché questa legge questa è la legge ciao amici se vi interessa sapere cosa dice la legge come va interpretata cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale questa è la vera legge